Cosa ha detto Adriano? No, scusate, non è che io leggo nessuno ultimamente, è vero? Fa solo bene. Rascritto, rascritto. Dunque ha detto che alle spalle della X si nasconde il mostro del falso moralismo. Porca profonda. Il fatto è un bel programma. È bella, questa qui è bella. Non voglio togliere nulla a lodo che è poi appena arrivato, però... Ah, lui è più strozzo cioè essere conto Adriano. Esatto. Improvvisamente scopriamo che alle spalle della X si nasconde un mostro del falso moralismo pronto a condannare ed eliminare in nome della sua traboccante ipocrisia. Per cui senza minimamente riflettere si finisce col credere a chi ha ricattato Asia. Basta, questa è difficile adesso no. Quando l'ha scritto? Non la sapete. Ieri sera ha fatto un comunicato all'Ansa che oggi è sui giornali. Ma tu l'hai capita? No, per capire voglio dire che il falso moralismo, la X, vabbè, la X. Anche dietro un pareggio del totocalcio c'è una X. Ma voglio dire, ma cosa c'entra il falso moralismo? Ah, ma è difficile. Beh, d'altro lì anche lui ha una sua bell'età come me. Di strozzate di diciamo a Iosa, più o meno, io devo dire. Però a me è difficile capire. È difficile capire. Ma anche lui fa un fumetto dove a 20 anni invece ne ha 80. Perché? È un falso moralista anche lui? No, te lo chiedo a te o no? Non lo so, insomma. Grazie. 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 Grazie a tutti